Ciao amici della passione italiana, bentornati! Oggi giochiamo a, indovina cos'è, con me, Silvia. Hello everyone and welcome back. Today we're gonna play What is it with me, Silvia. Vi darò degli indizi, I'm gonna give you some clues, e voi dovrete indovinare di che cosa sto parlando. And you will have to guess what I'm talking about. Appena pensate di sapere la risposta, scrivetela nei commenti. As soon as you think you'll know the answer, write it in the comments. Troverete le risposte nelle descrizioni. You'll find the answers in the descriptions. Ma non barate! But don't cheat! L'oggetto di oggi può essere di diverse dimensioni, materiali e colori. Spesso è di gomma. Si può personalizzare. Se sei all'aperto, lo devi tenere per non farlo volare via. Alcuni si gonfiano con aria, altri con elio. Che cos'è? Amici di Passione Italiana, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e di cliccare like. Don't forget to subscribe to our channel and to hit like. Grazie! Grazie!